evviva eccoci qua arrivati a berkak questo supercharger mega galattico con 20 postazioni siamo gli unici è una cosa abbastanza curiosa supercharger veramente mega galattico guardate che roba tutto pieno di neve e noi siamo arrivati qui da oslo abbiamo viaggiato abbastanza piano che ha nevicato tutto il tempo le strade sono innevate sono sono pulite però comunque di neve c'è o e guarda guardate la meraviglia nevicando tutto il gasolio delle delle dei camion delle auto che esistono ancora andato via l'auto si è praticamente pulita quindi adesso noi ci apprestiamo alla ricarica vediamo un po come va si è aperta quindi come mai si chiude che strano a forse c'è un po di ghiaccio qua eccoci qua e siamo già in ricarica la moglie mi ha fatto lo scherzo sarà andata con la chiave per cui l'auto si tendeva a richiudere guardate che spettacolo qui andiamo poi dopo a rifocillarci a far pipì la targa è completamente piena di neve praticamente è una lastra di ghiaccio ed è abbastanza curiosa l'auto è come se fosse andata all'auto lavaggio con questa neve guardate che roba è uno spettacolo meraviglioso tutta questa neve bianca e l'auto si è ripulita stiamo abolendo il motore a scoppio alla grande evviva un saluto a tutti ciao